quattro ruote di febbraio vi aspetta in edicola scopriamo subito tutte le novità con i giornalisti della redazione questo mese ho avuto il privilegio di provare per primo la jaguar e pace cioè la suv compatta della storica casa inglese una macchina molto interessante che ha prestazioni adeguate alla categoria è molto confortevole e il resto ve lo lasciamo scoprire sul numero di febbraio di quattro ruote vi ricordate dell'eclipse la coupé della mitsubishi anni 90 bene dimenticatevela perché in questo caso è cambiato tutto il nome viene sicuramente da lontano ma in questo caso è stato declinato in una suv coupé a trazione integrale con un motore inedito il 1500 turbo da 163 cavalli perché quest'auto è importante perché è l'ultima vera mitsubishi la casa come sapete è entrata nell'orbita dell'alleanza reno nissan e si presume che d'ora in poi adotti anche in condivisione con le altre case con gli altri brand delle piattaforme delle motorizzazioni che porteranno sicuramente gli interessanti sviluppi sulla carta la auto è portatrice di una novità assoluta infatti la prima automobile che offre al pubblico realmente la guida autonoma la vera e propria guida autonoma non la guida assistita che già esiste su molte automobili nella realtà dei fatti però tutta questa meraviglia tecnologica è per così dire in stand by le leggi non sono ancora state aggiornate e tutto questo non può ancora liberamente circolare su strada questo comunque non toglie senso alla auto che intreccia al lusso di sempre quello per cui è famoso da decenni con un livello tecnologico di spessore assoluto orientato ovviamente alla sicurezza innanzitutto e per restare sempre in germania ho poi provato la volkswagen art una confronto con la auto sembra quasi economica ma è comunque un'auto da oltre 50 mila euro ed è una grande viaggiatrice l'abbiamo provata col motore 2000 btdi da 240 cavalli e la trazione integrale kia stinger ovvero l'auto sportiva che non ti aspetti soprattutto da un marchio generalista come kia che ci ha abituato a delle piccole cittadine oppure delle SUV delle crossover invece arriva questa sportiva con due motori un 200 cavalli turbo diesel che abbiamo provato ampiamente sul numero di quattro ruote che c'è in edicola e un altro un po più avvelenato che è un v6 da 370 cavalli provato in pista un'automobile che ha avuto una cura particolare da parte del team di kia che ha a capo albert birman un mago della messa a punto delle automobili sportive visto che arriva niente meno che dalla sezione m di bmw leggetevi la prova intera perché non è da perdere allora fabio ce l'abbiamo fatta anche stavolta ci siamo riusciti tante novità o no ce l'abbiamo fatta sì tante novità e il mese di gennaio è sempre molto particolare per la nostra lavorazione perché arrivano tante notizie vogliamo anticiparne qualcuna ai nostri lettori sì in realtà le anticipazioni più importanti ce le date sergio marchionne la ddf ca che ha confermato tre modelli che noi avevamo fatto vedere alcuni mesi fa e parliamo della suv grande alfa romeo della crossover di ferrari grande novità e anche di una maserati sempre sport utility più compatta della levante ma ci sono anche molte novità sul fronte per esempio dell'elettrico perché in casa bmw si preparano delle sorprese una berlina di medie dimensioni che andrà ad aggiungersi alla famiglia i e una piccola sorpresa in casa mini una crossover più compatta della countryman anche con propulsione elettrica e parlando di futuro proprio tu fabio hai vissuto un'esperienza particolare a bordo di una macchina di reno si la reno sambios che è un prototipo dotato di un sistema di guida autonoma di livello 4 che secondo la reno sarà in grado di portarci in autostrada senza mani e senza badare a quello che succede sulla strada per l'appunto già dal 2023 devo dirti robbie è stata una delle esperienze più intense che io abbia mai provato voglio anche riportarvi per un momento con i piedi per terra perché oltre a queste macchine che arriveranno sul lungo termine ci sono anche degli arrivi molto più imminenti come quello della toyota auris di cui parliamo su questo numero oltre a tutto quello che si è visto naturalmente a detroit e las vegas a cui abbiamo dedicato un ampio spazio di 14 pagine e tutto questo ovviamente lo trovate sul numero di febbraio di quattro ruote vedete questa è una centralina aggiuntiva di quelle che promettono di fare andare più forte la vostra auto e anche di consumare di meno ma funzionano veramente ne abbiamo comprata una in incognito montata su una vettura e provata sulla nostra pista i risultati sul numero di quattro ruote in edicola senza dimenticare però che questi oggetti possono essere utilizzati solamente in pista e diventano invece illegali se guidiamo l'auto modificata su strada normale si parla tanto di elettrico di auto elettrica batteria e per metterci nei panni di un utente normale che decida di utilizzare la sua vettura in modo un po più ambizioso rispetto al classico impiego cittadino di andare oltre di provare a vedere cosa succede se si va a fare una classica gita che può voler dire andare al lago in montagna oppure al mare abbiamo preso tre automobili la batteria la Hyundai Ioniq la Renault Zoe e la Volkswagen Golf e ci siamo spinti oltre l'autonomia garantita dalle loro batterie per cui per forza di cose lungo il viaggio abbiamo dovuto caricare la batteria si può fare certo però bisogna programmare un po' le cose scommettiamo che qualche volta avete sognato di uscire da una concessionaria con un'auto nuova di zecca senza aver tirato fuori un euro ebbene è possibile perché ci sono diverse campagne che consentono di acquistare l'auto con finanziamento e anticipo zero ma vengono applicate realmente dai concessionari abbiamo visitato in incognito decine di concessionari dal Piemonte alla Sicilia chiedendo i preventivi per auto dei segmenti A e B. Quattro ruote di febbraio con il listino completamente rinnovato vi aspetta in edicola e con due euro in più potrete avere in allegato la guida all'acquisto il vademecum per chi deve cambiare l'auto oltre 400 pagine con prezzi e dotazioni di tutti i modelli venduti in Italia schede tecniche e prove sprint dei modelli più significativi a un euro e cinquanta in più invece potrete avere il numero di febbraio di due ruote con nuovi test in anteprima tra cui quello della Triumph Bonneville Bobber Black correte in edicola